Il Capitano Garrison Ascolta, io voglio soltanto aiutare Tu sei com'è, vero? Cazzo, secondo me stiamo facendo un grosso errore, un rischio e anche un peso Attenzione! Messaggio del Capitano Garrison Guerrieri della Valkyrie, siamo stati Abbiamo sofferto Perso amici, persone care Faremo in modo che non sia stato vanno La tempesta ha bloccato l'aereo nemico Ma non sarà per noi Forse resta solo la nostra nave Ma non ci arrenderemo senza combattere Andremo a Ovest Colpiremo l'aeroporto sfruttando la tempesta Creando un passaggio nello stretto di Singapore Dobbiamo essere rapidi e decisi La tempesta ci porterà a casa E' un tempo fantastico Non farmi cazzare, ma Hai quella cazzo di pistola, lancerazzi? Sì, ce l'ho! Qualcuno sa se la tempesta si sta intensificando? E chi lo sa? Potrebbe calmarsi tra mezz'ora Sembra più una depressione tropicale che un tifone Cos'è un tifone? Voi lo chiamerete un ragano Per questa o no, dobbiamo farcela Se l'attacco manca il bersaglio, molte persone soffriranno Rekker, davanti a Siena, un punto liberale a schiaccia Portaci là Eccolo con la testa Siamo bloccati dal tuo tuo nemico! Pronti allo parco! Attenzione al tuo tuo amico! Ecco il nostro supporto! Vitragli aprile! Riparo! Trovate un riparo! Perciamoli a posto! Grande! Le attivate! Perciamoli! A breve modo! Trimisione qui! E c'è strato, venga! non ci stiamo faccio faccio mancatevi questo ci stanno le radio citando da personali ai cari a tanto è male bianco il liceo che vado a andare in giro non ci sono 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 Atenzione! Un'incisione confermata! Oh, sì! Tenta di forte, sicura! Dobbiamo sbrigarci! Cazzo, sì! Sovito ci sta passando! E' a nord, sull'altro lato di quell'autostrada! Quindi attraversiamo un po' più avanti? Credo! Quello è il passo per uscire dalla città! Ecco, vai avanti! 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 Il testo è stato questionato! Sì, è stato un'altra! Allerco, senti in questa! Aspetto all'attitensio del controllo del rinforzo! Sessioni inattive! Buon tutte radioline! Devono riparare l'equipaggiamento buono! Sì, passiamo via! Runner, è un bimbo! Stiamo arrivando! Sì, è stato un bimbo! Rantelostrani per la vita! Osto! Ripetere che l'operazione del gruppo è tutto passato! Siamo bloccati! Sono ok, avanti! Ceriamo il sottopartaggio! Non sento Renner, state vicini tanto! Siamo in movimento! Dobbiamo arrivare subito lassù! Dietro il carro, Wreckers! Siamo in movimento! RUNNER, RUNNER, RUNNER RUNNER RUNNER, RUNNER, 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 RUNNER No, 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 no! No, 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 no! No, no, no! Cazzo! Ma l'emissione! Fa un culo! Ehi, va tutto bene? Il portello era aperto! L'esplosione ci ha quasi preso! Cos'è successo? Onda adulto! Sono affortunati a essere vivi! Dovremmo prendere il calo! Irish! È l'inizio di questa bellezza! Bello il tuo coso! Pompiati dall'inferno! Alleati, avanti! Ancora runner! Raggiungiamolo! Qui runner 1! È bello vedervi tanto! Vale anche per noi! Avanziamo il città! Andiamo! Controllate i vostri settori! Coppiteci nel palle! Runner 1! Chiudo! Brecher! Back! Occhio agli anni! Porca troia! Runner 2! Sì! L'amnistro! L'amnistro! Comunicci avanzata! L'amnistro! Alassati in arrivo! Settori magniflu! L'amnistro! Ci serve aiuto! Procedi sul pianco, Reg! Oh merda! Rpd ancora attivo! Oh no! Oh no no no! Raggiungiamo! Raggiungiamo! Rispoli! Ora ormai più domstile! Amici in arrivo sulla strada! Ritamando forza, Beck! Ritamando forza! Ritamando forza! Ritamando forza Ritamando forza, Ritamando forza Attenzione, Beck! È un proprio stradale. Di sonno ricontrollati a distanza. Possiamo diventarlo. Va a trovare una sala di controllo. Prendiamo questo posto. Abbiamo i nemici. La, vicino al mondo. Un veicolo abbandonato. Sì, il Terrier l'abbia trovato. Luigi, quello a fare, andiamoci da qui. Andiamo la nova e andiamo. Non vedo ancora l'aeroporto. Siamo sulla strada giusta. Dobbiamo solo trovare il barco. Là, c'è l'altra parte del centro commerciale. Ecco il parco. Nemici del centro commerciale. RPC sul passaggio. Stanno scappando. Voglio poter raggiungere quel canto di parco. Un avvento, un avvento, un avvento, un avvento, un avvento. Un avvento, un avvento, un avvento. Carro nemico oltre il... Vida un attore a sinistra. Ecco lei da posto. Là, sembra di sì. Del resto. Carro nemico, nella piazza. Un avvento. Adesso, sono cominciati. Sì, sì, sì! Sì, sì, sì! 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 Sì! Sì, sì! Sì, sì! Sì! Sì, sì! Sì! Sì, sì! 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 Sì, sì! 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 ! Sì! ! 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 Carro nemico! Nella piazza! Voglio soltanto raggiungere quel cazzo di barco, Buck! ! 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 Torniamo all'auto. Va, rompi il finestrino. Anna, controlla il freno a mano. Al tre, uno, due, tre. Ci siamo, guardia. Per un pelo. Dobbiamo andarcene di qui. È troppo pericoloso. Non ce ne andremo senza di te. Nessuno deve restare indietro. Spingiamo. Oh mio Dio, dammi una mano. Dovresti essere libero. Qual è il problema? Qua cosa l'ha bloccato? Le cinche. L'ha bloccato dalle cinche. Cresilo. Cos'è? Cos'è? È una fottuta. Non togliamo le cinche. Non togliamo questa. Ci provo. Forza, chiamate la merceda. Non togliamo la merceda. non togliamo la merceda. Cosa che hai da qui? 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 Non è un bel astronauta Chi le? Tutto che hai da qui? Attila Non è un po' di scopo Ecco la via di cazzo Non è un po' di cazzo Ahah Grazie a tutti. Grazie a tutti. No, no, chi ti ha chiesto niente? Voglio sentire qualcuno di cui posso fidarvi. Sì, confermare le coordinate, lanciare il Bengala, andarsene. Possiamo farcela. Da quanto tempo fate squadra? Irish e Wreckers conoscono da molto. Danner è caposquadra. Io sono un ugore da cercare un'altra. Cos'è successo, Danner? Se l'è preso il mare. Oh, mi dispiace. Non lo sapevo. Ci sono delle armi rai... Sento delle voci. Cosa abbiamo? Deve tecnici e alcuni soldati. Oh, mi dispiace. Oh, mi dispiace. Oh, mi dispiace. Oh, mi dispiace. Cos'abbiamo? Tecnici e alcuni soldati. Sì C'è un cavalcavia per l'hangar principale Su per le scale, recca Cosa dici, Pak? Siamo vicini a uno degli hangar principali? Non sei tu a comandare, Arca Che problema ha, Caprice? Forza, ragazze, di qua Pensi di non poterti fidare di me? E io sia una bugiata Non ti ho fatto nulla Esatto, Arca Non hai fatto proprio nulla per me Da dove arrivo io, la fiducia si guadagna Grazie a tutti 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 Pobre! Mi schiena a fondo! Siamo a sinistra! Non guardateci! Ristoriamo bloccati dalla fiame! Forza, la piazzona! Perfetto la miseria! Siamo quasi! Mettiamo lì prima che scappino! Adesso! Forza! Perfetto la miseria! Adesso! Forza! Perfetto! Voi! Tutto i Comunicatori! Oh no, oh no! Perchè cazzo sei tu a guidare? Riducili in porsiglia, Garrison! Via, 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 via! Vanno, fai partire l'auto, che cosa cerchi di fare? Fregarci! Riprova! Che cazzo fai? Arrivano! Vai, parti! Parti! Stai a cazzo, raga! Voglio venire qui ci fai! Vieni qui, bra cazzo! Stai a cazzo! Va, parti! Finistra, finistra! Vieni qui! Continuo a minare un po' che ci diamo io! Non è possibile! Vince, vacchio! Avvivo! Puck. 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 Eh, svegliati, cazzo! Puck! Non farmi questo! Forza, forza! Puck! 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 Che cazzo! Ho un vottuto da puttana! Puck! 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 Mi spiacerecchè, non c'era altro modo! 22 marine morti nell'assalto Non abbiamo risorse sufficienti per curare tutti i feriti Le acque controllate da Chang saranno anche alle nostre spalle, dottore Ma non è ancora finita Ci servono tutti vivi e pronti Ah, signore, Tomston, non sono fra i caduti Oh, cazzo Va bene, ok C'è altro? Se vengono catturati, che probabilità ci sono? Se sono in mano a Chang, credo che non li rivedremo mai più La tua missione... Grazie a tutti Grazie a tutti